ciao amici value investor il mercato sta andando giù di brutto e questo potrebbe sembrare una cosa negativa per molti ma per i value investor come me è meglio dell'ultima ora di lezione dell'ultimo giorno di scuola e questo perché durante i crolli ci sono i saldi negli ultimi anni era davvero difficile trovare ottimi aziende a buoni prezzi soprattutto nel 2021 ho comprato personalmente solo alibaba in pratica non perché ho una convenzione con il governo cinese ma perché non riuscivo a trovare occasioni migliori ma con l'inizio del 2022 le cose sono cambiate e in questo video condividerò con voi le sei azioni che voglio comprare durante questo crollo allora vi anticipo che molte delle azioni che vi dirò sono già nel mio portafoglio perché per me non ha senza avere un portafoglio di 30 40 azioni si può raggiungere una buona diversificazione in modo da ridurre il rischio già con 10 15 azioni al massimo e quando parlo di rischio non parlo di volatilità ma parlo di rischio specifico legato ad un'azione che può vedere i suoi fondamentali peggiorare e quindi il prezzo crollare definitivamente quindi preferisco investire nelle mie migliori idee di investimento che ovviamente non possono essere 30 perché la trentesima azienda in ordine di preferenza sarà 30 volte meno buone della mia prima scelta quindi è probabile che sia un'azienda mediocre la trentesima perciò la prima azienda in cui ho intenzione di investire durante questo crollo è meta è un'azienda che ho comprato già pochi mesi fa dopo il crollo e secondo me rappresenta una delle migliori occasioni al mondo in questo momento ovviamente questa è la mia opinione personale ma ditemi voi dove trovate un'altra azienda che ha il mot di meta cioè il network effect il fatto che tutti utilizzano almeno un'app di meta a questi prezzi meta è l'azienda di social network con di gran lungo il maggior numero di utenti al mondo e ha un free cash flow yield dell'8 per cento e come sapete più alto questo valore più economica l'azienda e per darvi un'idea alphabet che alla fine è il suo principale competitor perché entrambi si spartiscono il mercato della pubblicità online ha un free cash flow yield del 5 per cento infatti a questi prezzi meta è secondo me molto sottovalutata anche se dovesse crescere per i prossimi cinque anni solo dell'11 per cento all'anno in media che è la previsione degli analisti e del 5 per i successivi cinque anni quindi valori davvero super conservativi meta è la mia scelta numero uno in questo bear market è la posizione che più di tutte voglio incrementare perché secondo me la migliore azienda americana a parità di prezzo però soffrirà ancora secondo me il prezzo perché non prevedo delle trimestrali buone dato che se entriamo in recessione le aziende spenderanno sempre meno in pubblicità e anche se gli investitori se lo aspettano comunque visto lo scarso ottimismo che c'è in giro secondo me quando vedranno il segno meno alla prossima trimestrale non la prenderanno bene la seconda azione che voglio incrementare e paypal un'altra azienda che ho già acquistato acquistato pochi mesi fa circa 100 dollari non mi piace come meta ma mi piace molto e a questi prezzi mi piace ancora di più parliamo del sistema di pagamento digitale più utilizzato al mondo che ha fatto registrare una crescita assurda negli ultimi cinque anni sia in termini di vendite di utili di utenti eccetera ma costa quasi come cinque anni fa e questo è assurdo per giustificare i prezzi attuali paypal dovrebbe aumentare il free cash flow solo del 10 per cento per i prossimi cinque anni e del 5 per cento per i successivi cinque è una crescita bassissima perché paypal negli ultimi cinque anni ha visto il suo free cash flow aumentare del 17 per cento all'anno quindi sono felice di comprare ancora paypal la terza azienda che voglio comprare è intel e anche questa ho già in portafoglio e lo so che in un altro video vi avevo detto che non volevo più incrementarla ma siccome il prezzo è sceso davvero tanto e il mio pmc è di 48 49 acquistandola a questi prezzi ridurrei in modo incredibile il rischio di rendimenti mediocri perché intel ha un valore intrinseco intorno ai 50 dollari secondo me quindi potrei abbassare di molto il mio pmc e prendermi un bel margine di sicurezza sul buon esito dell'investimento a livello di qualità del business non è formidabile come meta e paypal perché sta accusando molto la concorrenza di amd però intel ha molti più soldi di amd da investire in ricerca e sviluppo sta aprendo tante gigafactory per produrre chip per altre aziende e in futuro ci sarà sempre più bisogno di semiconduttori e costa davvero poco ha un piedi 6 e ciliegina sulla torta dividendi in crescita costante e sostenibili la quarta azienda che voglio comprare non ce l'ho in portafoglio ma ve ne ho già parlato in un altro video ed è adobe adobe è un'altra azienda fantastica secondo me con un vantaggio competitivo assurdo a due mot uno di switching cost e un altro di effetto rete quindi ha due vantaggi competitivi che secondo me le consentiranno di crescere a buoni livelli ancora per molti anni vi invito a guardare il video dove ho analizzato adobe perché credo davvero sia un'ottima azienda cresce da dio ha dei margini da paura bilancio ottimo fa share buyback ha un ritorno sul capitale molto alto e soprattutto in aumento degli ultimi anni un bel secondo le mie stime potrebbe già essere un buy ma visto che l'azione sta scendendo molto vorrei cercare di capire se arriva ad un minimo di margine di sicurezza di sicuro per terry smith uno dei miei investitori preferiti è già ad ottimi prezzi perché lui l'ha comprata di recente con un prezzo sopra i 400 dollari ad azione vediamo se continua a scendere potrei fare un piccolo ingresso per poi incrementare se scende ancora la mia solita strategia in pratica che seguo con tutte le azioni la quinta azienda che vorrei comprare è probabilmente una delle migliori aziende al mondo ed è alfabet è insieme a meta il monopolista della pubblicità digitale costa più di meta perché il mercato ha prospettive di crescita superiori su alfabet ma non costa secondo me molto non dico quale è il prezzo corretto secondo me di alfabet perché voglio fare un video dedicato su alfabet quindi fatemi sapere nei commenti se lo volete è un business comunque con dei numeri da paura sia a livello di crescita che di margini ha un business molto ben diversificato soffrirà però come meta nelle prossime trimestrali secondo me perché calerà il budget per le pubblicità degli inserzionisti noi youtuber credo che lo stiamo già accusando da qualche mese perché stiamo guadagnando di meno negli ultimi mesi non è che prima però ci ricoprisse d'oro e youtube quindi fatemi sapere se volete un'analisi specifica su alfabet sesta e ultima azienda che voglio comprare è visa visa è un business assurdo assurdo perché sapete qual è il net profit margine di visa il 50 per cento no non sto parlando di margine lordo sto parlando di margine netto quello che effettivamente si mette in tasca visa ed è un dato incredibile non so quante altre aziende al mondo possono vantare un valore del genere è uno dei business più profittevoli sulla faccia della terra che insieme a mastercard si spartisce un oligopolio questi sono i business che piacciono a me questi senza o con poca concorrenza dove ci sono due aziende che si spartiscono il mercato e sapete oltre ai margini dove si vede che è un business con poca concorrenza dal ritorno sul capitale spaventoso letteralmente visa è una macchina da soldi e con la gente che abbattonerà sempre di più il denaro contante credo che la crescita di visa continuerà ancora per parecchio tempo il problema è trovarla a buon prezzo visa come mastercard non è mai a un buon prezzo perché il mercato ha capito bene che sono delle macchine da soldi in regime di monopolio e quindi confido in questo crollo del mercato perché secondo me i prezzi sono ancora altini in questo momento anche in questo caso voglio fare un video dedicato dove vi dico quale potrebbe essere un buon prezzo secondo me per entrarci quindi fatemi sapere nei commenti se lo volete allora ragazzi ovviamente più il mercato scenderà più altre opportunità verranno fuori quindi magari considererò anche altre aziende ora vi starete chiedendo male small cap non ci sono small cap nella tua watch list allora secondo me con questi mostri del calibro di alphabet e visa che stanno scendendo a prezzi ragionevoli voglio usare la mia liquidità per comprarmi queste super aziende in quanto potrebbero non rivedersi più opportunità del genere potrebbe essere l'opportunità degli ultimi 30 anni di comprare aziende super dominanti a prezzi stracciati e alibaba vi starete chiedendo sì alibaba visto che ho una enorme fetta del mio portafoglio in alibaba non voglio incrementarla ancora a meno che non vada a prezzi imperdibili tipo se torna intorno ai 70 dollari la compro cioè va bene il portafoglio non troppo anacquato con 40 azioni ma nemmeno poco diversificato perché un minimo diversificazione per ridurre il rischio specifico ci vuole secondo me comunque credo sempre molto in alibaba cioè comprare il più grande e commerce al mondo allo stesso prezzo di 5 anni fa mi sembra il miglior affare in questo momento non sto dicendo attenzione che alibaba sia la migliore azienda al mondo sto solo dicendo che la migliore azienda il rapporto al prezzo che possiamo comprare e ovviamente questa è una mia opinione personale voi fate le vostre valutazioni le vostre analisi il vostro fair value per ogni azienda e fatemi sapere nei commenti quale azioni voi volete comprare durante questo crollo se volete comprare fatemi sapere se invece preferite aspettare oppure se addirittura preferite tornare liquidi scrivete nei commenti un like al video se vi è piaciuto e ci vediamo alla prossima ciao da davide